Buongiorno, il mio Instagram del mattino, ho colazionato, già dispensato dalla vista questa mattina, il mio tè, mi sono fatta una bella omelette, ho preparato in due round una torta che in 5 minuti può essere pronta, no no, 5 minuti no, perché bisogna sbattere, sbattere, sbattere l'uovo, ma ci pensa la planetaria, che rimanga a lungo la vita, c'è già un po' di anni. E quindi nel fornetto d'ersilia, sul fuoco, nella macchina del gas la chiamavavo a casa, non so come la chiamavate voi o come lo chiamate, sul fornello ho a cuocere il dolcetto, semplice, il mio gatto di savo, era tanto che non lo facevo. E poi ne devo preparare un altro carino, lo faccio nello stampo, quello alto, quello scanalato, lo cuocerò nel forno, perché è il compleanno di una bambina qua vicino, due anni, tesora. E allora le faccio il legato di savoa con tutta la glassa sopra, con i, com'è che li chiamano, i zuccherini colorati, devo vedere cosa ho nella mia dispensa. Ah, è tutto questo colore che mi è venuto in mente di mattina, perché oggi è anche il compleanno della Benedetta, la Benedetta è due anni anche lei, è una spezzina, un angioletto dai riccioli biondi, carina, simpatica come la sua mamma. La mamma è un'amica d'infanzia della mia bambina, sono cresciuta insieme, me la sono portata anche in vacanza ed era sempre a casa, no, sempre no, perché lei viveva in città e noi in campagna, ma veniva a fine settimana quasi sempre dalla nonna, poi spesso all'estate stava dalla nonna e poi hanno fatto anche un campo estivo insieme le ragazze, che non ve lo dico, due esseri, sono stata contenta di saperle insieme per una settimana in quella realtà, ma mi sono sbellicata da ridere, a pensarle, a immaginarle, ma erano carine, proprio carine, se la sono proprio goduta bene l'infanzia a queste ragazze. Le mie giovani esploratrici, eh sì, perché giravano per il borghetto, poi si erano attrezzate nell'atrio di una casa vecchia, nel borghetto c'erano anche dei ruderetti e c'erano anche delle casette chiuse, così, non più vissute. E in questo strano atrio a trapezio loro avevano creato la casetta, ma i bambini adorano avere una propria casetta e raccattavano dai bidoni nella spazzatura, quando ancora c'erano, tutto quello che potevano, addirittura un divano hanno preteso, che volevano portarlo da sola, era un gruppo di bambini di sotto dei dieci anni, perché noi ci siamo trasferite nel Lazio, che Camilla aveva dieci anni, io sto raccontando di un paesetto della Val di Vara, alle spalle della Spezia, 15 chilometri dalla città e alle spalle delle cinque terre, posizione strategica, un luogo che non è molto alto sul livello del mare, ma proprio dove abitavamo noi saremmo state 60 metri, perché è un saliscendi, ma un freddo, un freddo, ma un freddo di quei freddi, che io il freddo proprio me lo ricordo nelle ossa, il freddo che ho patito da quelle parti, di quelle brinate terrificanti, la mattina, la Camilla con questa cremina americana, la angstrom viso labbra, se no si spaccava da tutte le parti, aveva un po' di fragilità capillare, e poi altro è il nostro regime alimentare, vabbè adesso non mi sto a fare la pipa del mio regime alimentare, sono contenta, si è capito vero, e insomma queste ragazze, questi bambini, adesso lì nel borgo, quanti erano? Due nostri vicini, due maschietti, poi c'era la bambina che abitava più su, e poi c'erano due bambine che venivano da una zona poco distante, perché è un paese tutto frazionato, non c'è un centro del paese, sono tante frazioni sparpagliate, tutte che si vedono quasi praticamente, è particolare Beverino, il paese si chiama Beverino, e insomma queste ragazze che andavano in giro lì per le casette, che ci riguardavamo, c'era una staffetta di sguardi, che si chiedevano libera, o c'è un po', le bambine salgono, e quindi insomma, questo lasciare i bambini liberi, di godere il sapore della libertà, nel potersi esprimere e giocare, con occhi di tutti, e orecchie soprattutto, insomma, in questo bugigattolo loro ci si divertivano, soprattutto quando il tempo era pessimo, e non li potevamo ospitare tutti in un'unica casa, ma era giusto, stessero all'aperto, insomma, le intemperie temprano, e allora in questo spazio loro avevano fatto portare questo divano, e gli avevano aiutati i militi, i miei colleghi della pubblica assistenza, perché avrebbero voluto attraversare la strada, in quattro gatti, due bimetti lì, con un coso pesante, per fortuna un'attroporata mogliosa, le mamme a pulire queste robe grosse, perché loro avrebbero passato il detersivo dei piatti, soprattutto il divano, vabbè, quando sarebbe mai asciugato, insomma, le vaporelle che girano prolunghe lungo il paese, stendini, pezzette, spariva di tutto da casa, e pentolini, pentoletti, tazzine, tazzette, poi si preparavano la merenda, e la portavano là e facevano finta di averla cucinata lì, si sedevano sugli scalini, ridevano, chiacchieravano, leggevano giornalini, quindi topolini, quando i bambini non avevano in mano il telefono, e si sono divertite come delle mate, e poi andavano in giro fra tutti quei bugigattoli di spazi nostri, diciamo, la campagna in casa praticamente, e allora si erano battezzate le giovani esploratrici, lei e la Kelly, in due, più l'altra, mi spero il nome di una bambina, ma lei non era spesso lì, anche se viveva lì, ma la mamma lavorava in città, e lei stava dai nonni, andava a scuola in città, insomma, e allora avevo dovuto fare anche le etichette, gli stemmi, che etichette, gli stemmi con ricamato, sta cosa, e poi avrebbero voluto coperte, le cocche, una casa, volevano la casetta, appendevano le cose fuori, sul muro c'erano degli spazi, infilavano chiodi, loro appendevano le cose come vedevano fare un po' tutti, ma erano veramente carini. E allora stamattina, guardando il mio Instagram, quello che mi stava proponendo, mi sono soffermata su questa cosa, perché queste piccole formelle mi hanno ricordato le cosine che si preparavano i bambini, perché facevano anche dei piccoli manufatti, e assemblavano cose, ma con tecniche improbabili, tipo, che ne so, delle presine vecchie, le assemblavano con del fil di ferro, o della rafia, o qualcosa che recuperavano in giro, e ne facevano dei centrini, facevano sempre dei panni da stendere. Oh, poi non vi dico come andavano a pulire l'oratorio che stava a due passi da casa, noi stavamo in una zona pedonale, ma una frazioncina piccolina, quella da basso, nella frazione di San Cipriano, ma erano il terrore del parroco, perché non aveva il coraggio di sgridarle, giustamente, perché capiva la buona volontà, ma mi sembrava, guarda, di sentire a casa lo slash dello straccio zuppo per terra, che allagavano da tutte le parti, raccattavano le palline del calcio balilla, oh, che ridere, erano proprio delle perpetue, sgridavano, si sporcavano, davano staramazza per terra, stum, stum, oh, Lorenza, ti prego, falle pulire, ma io cosa ci posso fare, queste vengono lì, le hanno prese come una missione, abbiate carità, oh, che ridere, e vabbè, insomma, questi bambini che devono vivere da bambini, e allora questa cosa, questo insieme di piccole formelle, mi è venuto in mente quanto facevano i bambini, che raccattavano anche delle mattonelle, anche rotte, erano sempre in giro a cercare mattonelle, e se ne trovavano, di mattonelle in giro, e le usavano per fare sotto piatti, sotto tazzine, sotto qualcosa, sopra c'era sempre qualcosa da mettere, e allora questo mi piace, mi fa allegria, mi ha fatto venire in mente, un po' perché vabbè, questa mattina mi hanno ricordato che Benedetta compie gli anni, io non mi ricordo proprio neanche quelli di casa, più o meno vagamente conosco i mesi, a volte li inverto pure, ed è una cosa che a loro sarebbe piaciuto fare, perché coinvolgevano i maschietti nel far di tutto, quindi venivano a casa a copiare i miei schemi per il punto croce, colori non ne sono mai mancati, stavano bravi, avevo un tavolone, la stufa a legna, il camminetto, facevo le merende cotte nel camminetto, quando ero a casa, io a casa non c'ero mai, però i bambini sono sempre stati benvenuti in casa mia, e addirittura, addirittura, organizzarono un concerto, dove loro dovevano rappresentare le Spice Girls, e c'erano questi due maschi, e abbiamo dovuto pettinare e truccare questi maschi, e hanno interpretato tutti, anche loro hanno fatto un balletto con le coreografie, mia figlia stava frequentando una scuola di danza classica, non moderna, però ha sempre ballato bene, è sempre piaciuta la musica, quindi sapete quei registratori, quelle radione un po' proprio tamarre, quelle grosse che si mettevano, vedevamo nei video, sulle spalle, ora sono i rapper, all'epoca non mi ricordo come si chiamavano, sono già vecchia io, e quindi sulla finestrella del bando, se casca di sotto, avevo la tettoia, mi spacca la tettoia, mi spacca tutto, e quindi, mamma, parti, avevano radunato la gente del paese, guai, qui nell'aia, davanti, di lato, i genitori, i parenti, gli amici, e loro che si esibivano, e c'era la mamma, che doveva fare il cambio musica, poi avevo cose da fare, mi distraevo un attimo, non so, c'era il gatto, qualcosa, e allora correva una di sopra, abitavamo in una casettina piccolina, di quelle che piacciono ai bambini, su due piani, piccolina, le finestrelle, che fanno gli occhietti alla bocca della casetta, quelle cose così, e quindi saliva una, e dai mamma, sei spenta, sei inceppata, le cd, e vai, e parti, e queste sono fatte tutto un LP, delle spice, tutto hanno cantato, ballato, coreografato, non mi ricordo se hanno raccattato dei soldi, fatto sta che delle merende, dei dolci, sì, mi si sono divertite, tutte come delle mate, perché hanno ricattato il parentame, oh che bello, e allora io questa cosa qua la dedico a loro, la dedico a noi, a noi amanti delle cose da fare, perché, vedete quei cerchiettini, adesso ve lo avvicino, adesso che abbiamo, siamo partiti, ma intanto perché ho scelto anche questa, questa cosa, questa proposta dal mio Instagram, io non inteso che sono mie pubblicazioni queste, ci sono anch'io lì in giro, ma facciamo poche cose con la Camille, da poco che stiamo collaborando con mia figlia, e mi aiuta a pubblicare le foto, mamma è negata, ma tra i contatti, scelgo un'ispirazione del mattino, e adesso mi avvicino, perché è il botto, il botto, il botto che è così bello, in tutte le sue colorazioni, che le vorremmo assaggiare tutte queste colorazioni, possiamo fare tante cose, io in programma ho da fare il bomber a Camilla, e un golf a Federica, l'altra ragazza che frequenta la mia casa, le mie ragazze, allora, io c'ho sempre avuto bambine, ragazzi, giovincelli, giovincelle per casa, sono la zia, io sono la zia Loria, allora, questa cosa la vediamo da qua, ecco, ci sono delle piccole formelle, vedete dei cerchietti, e poi ci sono delle formelle che partono, vediamo se riesco a farvelo vedere bene, vedete, con il grani classico da 4, e tutti questi piccoli quadretti, circondati da un fondo monocromatico, allora, cosa mi è venuto in mente, che presto molti di noi avranno tanti belli avanzini di botto, e se non ce li avete procurateveli, che è un filato particolare, è un filato di quelli che si manifesta solo dopo bagnato, e quindi, prima di lavorarlo, io consiglio, fate un campione qualsiasi, fate un campione con dei punti aperti, fate un campione di maglia rasata, ai ferri, e a un uncinetto, e vedrete come rende maniera diversa tra il crochet e il tricot, molto diverso, e vedrete nelle codine quanto si apre, e non è un difetto, è una particolarità, ecco, io mi allontano, vediamo se me lo mette a fuoco, che ribadisco, ricorda il movimento delle islandesi, le plotulopi, le pizze, che sono composte da fibre orientate, ma non ritorte tra loro, loro sono particolari, sono diverse, non è la stessa cosa, non è che dico, oh, quello e questo sono uguali, non dico non parenti, ma hanno un andamento che si può, possono somigliarsi, insomma, se apprezzate quello, non dovreste disprezzare il botto, diciamo, se amate le nane secche, quel botto vi potete divertire, è proprio un filato divertente, che ha delle particolarità, e vanno conosciute, ma il botto, la cosa principale, che cosa? è questa ricca presenza di inclusioni, che sono tipiche dei bottonati, e ci fanno pensare al tweed, nel tweed, queste inclusioni sono molto più piccole, difficilmente sono variopinte, ma ci sono anche quelle, anche nel tweed, che proviene dalla propria madre patria, quindi con quelle lane secche, il tweed, ricordo come è nato, è nato con l'ingegno, di chi ha necessità, di creare qualcosa, di diverso, rispetto alla quotidianità, che è sempre abituato a realizzare, nella quale vive, di tessitore, e quindi questo tessuto, che ha l'ordito in un colore, e la trama in contrasto, e quindi il bigio con lo scuro, il chiaro con il bigio più scuro, o con la lana nera, della pecora nera, queste lane scozzesi, e anche irlandesi, il tweed viene da una zona specifica, che adesso poi ve lo dico, e insomma, che crea questo tessuto, che io da piccola chiamavo sale e pepe, perché mia nonna lo chiamava sale e pepe, e recuperando gli scarti della tessitura, perché tessendo, a noi cascano un sacco di peli, da sotto al nostro ordito, al nostro tessuto che cresce, alla nostra pezza, alla nostra tela, perché il tweed come tessuto, nacque come tela, poi divenne anche saia, e quindi con un andamento diagonale, che le dà una morbidezza diversa, rispetto alla tela, la tela è la prima, la prima, diciamo, il primo tessuto creato dall'essere umano, si pensa, si presume, insomma, questo ordine regolare, di un filo di trama, che passa sotto un filo di ordito, questo sopra sotto, sopra sotto, e al ritorno si scambia, armature, ecco come si chiamano i tessuti, spesso noi sentiamo indicare, metti i pantaloni di tela in casa, e per tela si intendeva, un tessuto leggero di cotone, ma la tela, è quel tipo di intreccio, non è il nome di un tessuto in cotone particolare, la tela la possiamo realizzare con qualsiasi filato, con qualsiasi fibra, con qualsiasi natura, l'importante è che si rispetti, quell'ordine di alzata dei fili di ordito, e quell'ordine di entrata e di uscita, da un lato all'altro, delle cimose della nostra trama, e battendo col pettine la nostra trama, vicino una pressa all'altra, cascano le pelurie, e venivano recuperate, e quindi essendo sia di lana chiara che di lana scura, perché l'ordito appunto, ricordo, veniva realizzato in un colore la trama in un altro, venivano poi recuperati da terra, rifilati in qualche modo, e immessi nelle successive filature, ed ecco perché questi fleck, questi puntini, sicuramente non saranno stati molto molto regolari, ecco all'inizio, chissà che bello vederlo fare per la prima volta, e insomma il botto, torno al botto e torno a quello che vedo nel mio Instagram, queste piccole formelle circondate, questi piccoli quadrati, questi cerchietti che possiamo circondare da cornici, ecco come poter recuperare il botto, quello che vediamo, non capisco di quale materiale possa essere, comunque uno stoppino, si vede benissimo, e allora ad esempio, visto che c'è questa avventura in atto con l'Hollocrea, che mi sta veramente viziando, perché mi stanno proponendo filati bellissimi, c'è un bel dialogo, è veramente una grande bella esperienza, insomma mi piace questa cosa, allora visto che anch'io mi troverò poi tra un po' con tanti bei gomitoletti di botto, poi quanti chissà, quindi posso realizzare una cosa piccola, come un berretto, potrò realizzare degli scaldamani, potrò realizzare anche un cuscino lanoso, posso realizzare una bella coperta, io amo le coperte da divano, gli scaldotti, queste dalle forme piuttosto contenute, queste cose che ti butti un attimo sulle gambe, quando stai a leggere, a studiare, o ti metti un po' in terrazza a lavorare, anche se non è estate e primavera, se è una giornata fredda, anche primaverile, una giornata buona e invernale, oppure anche una giornata grama e invernale, ma che si ha voglia di trascorrere all'aperto, sul proprio balcone, terrazza, davanti alla propria finestra, aperta, un po' d'aria. Allora, considerando questa cosa, considerando questo bello oggetto, questo bel insieme, questo bel spunto, vediamo delle formelle già assemblate una pressa all'altra, i cerchietti possono diventare dei quadrati senza nessuna difficoltà, e quindi possiamo creare delle formellone, delle righe, delle fasce, perché non necessariamente dobbiamo replicare dei quadrati, possiamo creare delle righe di formelle, delle file di formelle, e poi cambiare i colori della parte centrale al nostro gusto, insomma, è divertente creare queste cose, secondo me. e quindi sia il cerchio ovviamente può diventare un quadrato, grazie all'uso delle maglie alte, delle maglie basse, delle catenelle, i grandi quadratini già si prestano da soli, ma è deliziosa, questa cosa è veramente deliziosa, una bella tazza, che sembra un caffè latte, ma quel che l'è l'è, questo è il fiore del trifoglio, buono si mangia, e quindi ad esempio, se io volessi fare una coperta, è pronto il mio dolce, adesso vado, se io volessi fare una coperta con scarti, ma no scarti, avanzini di botto, come la potrei creare la cornice? ecco, io ad esempio non la farei con lo stesso filato, perché anche con un colore in contrasto rispetto a tutti, la presenza del bottonato, dell'effetto bottonato anche nella cornice, quindi nel bianco che vedete in questo quadratino, non mi metterebbe poi così risalto alla parte centrale, e allora guardando tra le cose che ho, considerando quanto è corposo, un pochino rustichino lo è, è un filato secco, è delizioso, è un filato, secondo me, adatto a chi ama indossare qualcos'altro sotto ai golf, a chi non desidera sempre e solo quell'effetto fluffoso di certi cashmere o di certi merino, o anche miste seta, e a chi non disturba disturba ecco la mano delle lane secche, io amo la scettola nella lana da tappeto, sarda, capirete un po', per me questa è una carezza, ecco, e lo trovo bellissimo, di quelli che ti viene proprio voglia di indossarli sempre e di portarli allo sfinimento. Allora io cosa ho scelto? Ho scelto il Queen, adesso vedete un colore scuro del Queen qua davanti, il Queen è un 70% composta da 70% lana e 30% liaceo, il liaceo è un derivato della corteccia dell'eucalipto e pare tutto un processo abbastanza, è piuttosto green, quindi ecco perché questo grande uso del liaceo ultimamente rispetto ad altre e classiche viscose. Allora, mentre il botto è un 80% merino e 20% viscosa e quanto rende croccante questo filato la presenza della viscosa, non è tanto la fibra secca della lana ma è proprio la viscosa che gli dà questo strano effetto e ecco perché io lo consiglio, è un'esperienza il botto, è divertente. Allora, il Queen è un filato molto più morbido, è un filato piuttosto ritorto, è sottile, quindi lo possiamo doppiare, ecco, anzi consiglio di doppiarlo perché almeno riusciamo ad avere una cornice abbastanza sostenuta e possiamo giocare comunque con i calibri, è sottile, vedete, ecco, lo lasciamo cadere, ecco com'è, intuite il movimento della torsione delle fibre, ecco, e invece vi faccio vedere il botto, vediamo se riesco a farlo cascare, un botto dal gomitolo, ecco, facciamo così, lo mettiamo davanti, lo mettiamo vicino, vediamo, ecco, vedete, è più sottile il coso, qua che già me lo so scordare come ti chiami, il queen, considerando che il botto da lavorato e bagnato si gonfia, però mi piace il contrasto tra un filato morbido che sembra quasi composto da molto mohair e invece si tratta di lama, ha un aspetto peloso come alcune shetland, il queen ricorda delle shetland dolci, ma è una lana secca, no? però ricorda proprio alcune shetland dolci, alcune shetland di agnellino, è molto più dolce di un agnellino di shetland, ma l'agnellino ha un suo perché nella lana shetland, il fatto di essere così torto ma pelucchioso intorno non lo rende uguale al botto che sembra poi un'incisione, soprattutto a crochet prende un certo corpo compatto, anzi, lo potremmo lavorare anche triplo, ma mi crea un contrasto morbido dove comunque questo peletto che sta intorno al queen nasconde un po' l'effetto della torsione classica e riesce ad alleggerirci e non è pesante il botto ma riesce a darci una sensazione di leggerezza e di maggior dolcezza questo contrasto dovremmo scegliere un colore di fondo adeguato al nostro ambiente o al nostro carattere o ai colori dominanti le formelle che avremmo avremmo realizzato e basta andare a vedere la bella proposta del queen nel sito Lollocrea è proprio caro ecco questo è il mio abbinamento del giorno l'ho già testato ho provato ho verificato se può corrispondere veramente alle mie idee se risponde alle mie aspettative no perché è un'idea che mi è venuta questa mattina guardando il mio instagram buona giornata